Ciao a tutti, parliamo di succo di pompelmo e delle caratteristiche che gli vengono attribuite. Il succo di pompelmo, secondo molti, avrebbe delle proprietà dimagranti e bruciagrassi. In realtà questo non è vero, in particolare i semi di pompelmo hanno delle proprietà antivirali, antibatteriche, disinfettanti e aumentano le difese immunitarie. Il succo di pompelmo può avere una funzione antifame in quanto il suo gusto acidulo stimola ad avere meno fame, addormenta un pochino le papille gustative e quindi fa in modo che quando ci si mette a tavola si abbia meno propensione a mangiare molto. In realtà però non è da considerarsi né un bruciagrassi né una sostanza, un principio attivo dimagrante. Quindi chiunque vi avesse detto che il succo di pompelmo aiuta a dimagrire, vi ha detto una cosa che non è del tutto vera.